buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale dopo la video guida dove facevo vedere come installare il ledger sul vostro computer e creare un portafoglio vediamo come inviare una cripto valuta da bainas allegger e poi da legger a coinvese per prelevare poi su paypal ovviamente dopo la sigla nella pagina che troverete una volta che avrete installato il legger all'interno del vostro computer come vi ho fatto vedere nel video precedente che vi lascerò in sovraimpressione e oggi andiamo a vedere come inviare una cripto valuta in questo caso bitcoin da bainas allegger clicchiamo su ricevi selezioniamo l'account di bitcoin che abbiamo creato precedentemente come vi ho fatto vedere clicchiamo su continua autorizziamo la transazione come viene mostrato sul display adesso è stato generato il nostro address copiamo l'indirizzo ci spostiamo su bainas andiamo su wallet wallet spot andiamo su preleva selezioniamo bitcoin copiamo l'indirizzo che abbiamo appena incollato l'indirizzo del portafoglio corrisponde selezioniamo la quantità che vogliamo inviare in questo caso io come prova invio la quantità massima come vedete il prelievo è stato inviato adesso attendiamo solo l'arrivo sul legger perfetto come vedete la transazione è andata a buon fine non appena bainas ha inviato i miei bitcoin dopo circa dieci minuti sono stati caricati all'interno del legger abbiamo visto come ricevere una cripto valuta da un exchange allegger nano s vediamo come inviare una cripto valuta del legger nano s in questo caso a coinvese e poi a prelevare tramite paypal allora andiamo su sand e ci apre la schermata di invio prima di tutto ci dobbiamo spostare ad esempio su coinvese per andare a generare il nostro wallet di bitcoin andiamo su ricevi selezioniamo la cripto valuta che vogliamo ricevere andiamo a copiare il nostro indirizzo ci spostiamo sul legger inseriamo l'address clicchiamo su continua selezioniamo l'importo che vogliamo inviare al nostro wallet esterno al nostro change possiamo settare le fi su alte standard basse oppure impostare noi quanto vogliamo spendere di fi io lascio standard e clicco invio perfetto ora passo al legger e vado a confermare la transazione cliccando come vediamo in sovraimpressione in questo momento sta caricando la transazione e la sta mandando a coinbase riconfermiamo sul sul display che adesso non state vedendo perché sto registrando il video e sul display del legger c'è la conferma dell'address che ho appena incollato il totale della transazione devo solo verificare che sia tutto corretto e poi cliccare su accetta perfetto in questo momento sta inviando la transazione transazione inviata come vedete in pochi secondi il legger ha spedito i miei bitcoin possiamo vedere il dettaglio le fi la transazione e dove stiamo andando a mandare i nostri bitcoin vedete che qui si è azzerato quindi io ho inviato bitcoin a coinbase e bitcoin sono arrivati su coinbase ora vado a venderli e me li vado a inviare sull'account tramite paypal a questo punto vado su acquista o vendi clicco su vendi seleziono bitcoin vendi tutto e clicco su vendi ora attendo l'esecuzione della transazione torno sul mio portafoglio in euro clicco sul portafoglio clicco su preleva preleva tutto 49,66 faccio continua e vado a selezionare paypal clicco su paypal questo è riassunto della transazione preleva ora è in automatico i miei euro sono andati sul conto di paypal pronti a essere trasferite eventualmente sulla mia carta di debito oppure sul mio conto corrente o pronti all'uso per qualche acquisto tramite paypal siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento spero che il video sia stato utile e di vostro gradimento ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto a lasciarmi un like ad unire la nostra community telegram per fare due chiacchiere insieme a noi e per potervi aiutare a risolvere ogni vostro problematica relativa alle cripto valute e a darvi alcuni consigli pratici ciao a tutti